Cari amiche e cari amici, innanzitutto vi auguro buona Pasqua e poi vi farò vedere che io in YouTube ho avuto successo. Successo, giuccesso. Successo, giuccesso. Successo, ecco ho avuto di nuovo un altro successo, augurando di avere anche a tutti e tutti voi tanto successo come ne ho avuto io, in YouTube il vostro Sant'Incien mi saluta e fa i suoi migliori auguri di Vigilia di Pasqua, che è oggi Pasqua e Pasquetta, fino all'anno prossimo. Ciao, un saluto a tutti.